Oh, torrette? Oh, ok! Sì, sì, le conosco anche io, le torrette per le auto. Posso? Posso? Non vi accoggete neanche di me? Birra? Glotar? Posso? Booyah! Hi, Warriors! Oh, zah! My name is Max91 e siamo nuovamente qui, su Rage! Per nuova entusiasmatissime, Rage avventure! Sì! Blah! Vomito time! Blah! Blah! Ok, ok, basta, 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 Rax, basta! Blah! Basta! Ok, ok, mi sono calmato, perfetto! Amm... ok, visto che molti di voi mi dicono, ma Rax, quando è che lo continui Rage? Rage, quando continua? Ora sta continuando! Boost time! Comunque, cosa vi volevo dire? Sì, questo è il secondo gameplay senza web. Mio Dio! Oh mio Dio! Sentite che voce! Mentre BUSTO! Col... che diavolo di... di veicolo è? Non me lo ricordo. Non è una buggy perché devo andare adesso a prendere la quest per i pezzi della buggy. Ah no, devo anche completare un'altra quest. Eh? Un attimo! Che devo prendere? Qui? Grazie, grazie. Dammi tutto. Ok, grazie. Sì, so che... non mi ricordo se l'avevo completata nel precedente video. Purtroppo non mi aveva salvato e l'ho dovuta rifare. Quindi... Boia! Boia. Ok. Tu dovresti essere quello dei pezzi. Sì, ovvio. Sennò non sarei venuto. Ora, mi piacerebbe darti quei pezzi, ma spero ci sia un piccolo problema. Sì. I predoni hanno razziato la mia ufficina e ho praticamente esaurito la maggior parte dei ricambi. Dovrai raggiungere il loro nascondiglio vicino alla vecchia diga per trovare ciò che ti serve. Pensi di farcela? Ovvio che ce la faccio, ma io avrei più che altro una domanda da farvi. Dio, maledetti NPC dei videogiochi. Domanda tecnica, ragazzi. Ma perché quando io accetto una minchiosissima... Orcazzota! Il fiositorapista mi ha sempre detto che era sbagliato cozzare... Ok, che diavolo fatte voi? Ok. Cozzare contro questi paligiali. Comunque, dicevo domani... Ah, ok. Proviamo un po' i nuovi proietti. Fat boy. Fat boy! Che sono praticamente copiati da Fallout. Ma tant'è! Fa niente, fa niente. Non ci facciamo caso. Dicevo, ma com'è che ogni minchioso NPC... Perché... Ok, ok. Mi arriva da un messaggio. Niente. Dicevo, ma com'è che ogni volta che in un gioco tu accetti una minchiosa quest facilissima tipo questa, prendi dei pezzi di ricambio da un cazzo di meccanico. Tutte le volte è... Oh no, ma ti vorrei dare. Ti vorrei dare una mano. Ti vorrei dare quell'oggetto. Ma non posso perché non ce l'ho più. Me l'hanno rubato e perso. È un tipo un cazzo di artefatto... Introvabile. Action P.C.S. Sì! Sedia! Quello è quello che ti succederà. E non fare i 69 con i predoni. Cervella! Ok. Oh cazzo. Mi è esploso sul sedice. Era una cosa orribile. Comunque, dato che non voglio sprecare queste munizioni più di tanto, mettiamo questo e... Sì! Dai! Mitragliatore! Che poi in realtà è un maledettissimo AK-47. Modalità buia! No, in realtà no, è modalità fine del mondo, ma... Tant'è... Ok. Il buia ci sta sempre. Come un lag... Lag! Lag! Ok, ok. Perfetto. Ehm... Cosa stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? Cosa stavo... Per dire! Ok, mi sono scordato. Non fa niente. Andiamo avanti con il disco. Queste sarebbero delle texture... All'avanguardia. Mmh? Di ultima generazione. Sarebbero queste... Ok, fa niente. Fa niente. Cazzo, erano più fighe le texture di Doom 3. Mio Dio. ID Software che cazzo stai facendo con i tuoi programmi? Comunque, voglio provare il fucile a prendo. Da tu. Eccolo! Dietro di te! Coglione! Oh no, il fucile è caduto. Mi dispiace. Mi dispiace. Non volevo. Questo sì. Questo lo volevo. Ma quello... Smelmin... Smelmin... Stornatore. Stop. Ok. Posso muovermi? O devo... Ok, ora posso muovermi. Predoni... Soltanto. No, soltanto. E io? E io? E le suore delle orsoline dove cazzo le metti? Mmh? Perché loro non possono entrare? Che diavolo vi hanno fatto del suore delle orsoline? Ma soprattutto... Ma esistono ancora le suore delle orsoline? Che cazzo di domanda? Certo che esisteranno ancora. No? No? Non esistono? Ok, vabbè, fai niente. Si sono estinte le suore delle orsoline. Ok? Va bene? Ok? Siete contenti? Che diavolo? Oh mio Dio! Informazioni! Oh, ti serve uno spacca serrature. Mio Dio! Sì! Spacca serrature! Ok. Vediamo un po'. Like a boss, bro. Like a fucking... God boss! Mio Dio! Oh, torrette... Oh, ok! Sì, sì, le conosco anche io di torrette per le... Oh, posso? Posso? Non vi accoggete neanche di me? Birra? Lothar? Posso? Buia! Tanto per chiedere? No? Buia? Niente? Buia? No, non vi... No? Non vi piace il buia? Ok? Tutte quelle cose sulle suore orsoline. Oh mio Dio, cazzo, si è spappolato! Non posso neanche più raccogliere le sue cazzo munizioni! Tutta colpa vostra! Ok. Sto spiegando... Cifra! Ok, ok! Oh, oh! Bro, bro, bro! Tua madre non ti ha mai insegnato che non devi girare con... Lo so, una torcia fiammeggiante! No? Tua madre non te l'ha mai detto? Bro, bro! Eh? Cazzo, io te l'ho detto, tu non mi dai mai retta! Mio Dio! La mamma me lo diceva sempre. Lorenzo, non correre mai con delle torci infuocate! Potresti fare male agli altri, ma per quanto sei coglione potresti farti male soprattutto da solo! Perché è ovvio! Ok, ok! Fermi tutti, fermi tutti! Quindi è... Oh, cazzo! Maledetto armadietto della ceppalonia! Ok! Dai, muori! Ok, lag, lag, ok! Stai... Mi piegando! Ok, ok! Se ti stai piegando a 90 aspetta che arrivo! Aspetta! Ok! Perché cazzo i nemici riescono tipo a oltrepassarlo con un buzz alla olio cuore e invece a me me ne servono 7 di bottiglie dell'olio cuore! Ok! Ho appena creato una nicchietta per il sentimento di Sant'Antonio nel tempo! Non dire che non sono buono poi, eh! Ok, po' cazzo, po' cazzo! Birra, birra, birra mia, birra mia! Ok! Ha! Vi ho appena fattuto le birre! E non sono quelle cazzo di corone per bimbi minchia! Erano peroni! Ok, ok! Cioè, no, seriamente, ragazzi, ma la peroni... Che cazzo di gusto ci trovate nel bere? No, la peroni! La corona! Quando sbaglio termini mi incazzo come una bella! Comunque, dicevo che cazzo... Che cazzo? Che cazzo di gusto! Oddio, una porta elettrificata! Ok, io... Ok, ok! No, ok! Non si può aprire quella porta! Oppure sì? No, direi di no che non si può! No, ok! Ok, perfetto! Direi che non si può aprire! Perché avete preso quella porta impenetrabile! Oh, no! No, no! No, cazzo! Mi servivano le due munizioni! Un'attento stifosissimo pezzo di... Ok! Ah, ok! Mi serve l'alternatore! Che è questo, no? Sì, alternatore! Wow! Ok! Attenzione! Vai, Rex è nativa! Non collegare mai un alternatore a una porta per elettrificarla se poi avete intenzione di togliere l'alternatore! La porta esploderà! Mi spiace, porta! Cosa? Non voglio... Oh, no! Oh, no! Piangerò in un angolino per sempre! No, ok! Già mi è passata! Ok! Sì, non adoro tanto le porte! Oh, mio Dio, dai! Oh, cazzo! Peggio di un film di Romero! Ma vabbè! Ormai Romero non fa più i film di una volta! Domanda tecnica! Come cazzo faccio adesso a prendere le cose che mi servono? Che c'è in questo percorso? Una sedia! Che mi nascondevi dei piccoli oggetti! Oh, è una birra! Una Upper Light! Non correre con oggetti affilati in mano! Mio Dio! Ok, soprattutto con oggetti con texture scadenti in mano! Mio Dio, sono i più pericolosi! Perché ti aspetti un'ottima texture invece di accorci che è una texture schifosa! Ok, sì, la faccio finire! Sì, quella è una nicchietta! E quello è un headshot! Lesson by Rex 91 Comprate anche voi il nuovo DVD di lezioni con Rex 91! Oh mio Dio! Ok! Sant'Antonio Power! E, ok, quello era un proiettile nei coglioni ma non facciamoci caso! Sant'Antonio, tu non hai visto nulla! Ma poi, Sant'Antonio, il protettore... Cioè, sinceramente... No, adesso, senza scherzare, non mi ricordo... Che cazzo proteggeva Sant'Antonio... Cioè, Sant'Antonio è il protettore di cosa? Perché... Oh, sì! Sì! Rompi tutto! Spacca... Serrature... Lame d'acciaio! Sì, saranno otti... Granato Inverno! È un antisettico! Certo, un antisettico qui dentro è utilissimo! Quanto un calcio nelle gengive a un uomo senza debiti! Del tipo... Oh, ok, ok, ok! Fail mio! Fail mio! Troppi, troppi! No, no, fail! Il fail si è trasformato in un epic move! Ottimo! Eh, latta di benzina mia! Ma è piena! Cioè, spero sia piena! Sennò che cazzo lo raccolgo a fare una latta di benzina vuota! Rekzen! È per riempirla con la benzina! Sì, lo so! Lo so! Ok? Ok! Scherzavo! Mio Dio! Senso dell'umorismo, power, mode deactivated! Ok! No, no, no! Oh, 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 oh! Ok, ok, con calma! Uno alla volta! Non ho tempo per tutti qua! Ok, ho finito le menzioni praticamente di tutto! Oh, oh! Esatto! Hai fatto l'unico verso che dovevi fare! Oh, oh! Oh, oh! Mio Dio, questo è un bersaglio! Sì, sì, sì! Cento punti! Gotcha, bitches! Comunque, ehm... Stavo per dire, volevo dire, non mi ricordo più una ceppa! Ok, cos'è? Scarpe economiche! Sì, le mie preferite, quelle dei cinesi! Quelle che puzzano di benzene sia quando le compri che dopo dieci anni che le usi! Perfette! Scarpe al benzene! Se comprare delle scarpe al benzene, bro, non accendetevi mai una sigaretta in loro presenza! Potrebbe prendervi fuoco ai piedi! Oh, mio Dio! La bella lavanderina che spazza i pavimenti per i poveretti della città! Buia! Nessuno ti ha mai chiesto di spazzare i pavimenti, maledetta massaia! Cos'è? Sei la prostituta dei predoni, tu? Eh? Sei quella adibita a fare i pompini nelle celle? Sì, vabbè! Oh! 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 Cazzo! Vi sto dicendo di non correre con le torce in mano! E questo è perché non mi dà da retta! E non dire parolacce! Cazzo! Ok! Mi... Ok! No! Finish! 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 Scura la vassoviglie! Nel vostro petto! Ora è per sempre! Ok! Mi serve questo! Sedia? Sì, lo so! Tenti di uccidermi! Già lo so! Esatto, Rex! Sì, lo so! Lo so! Ssh! Ok! Fammi uccidere un po' di tuoi sgherri! Sta iniziando a laggare un po' troppo! Perfetto! State perdendo! Sì, ma... Ditemi quando avete iniziato a vincere! Quando mai avete vinto! Dio, esseri! Oh mio Dio, sì, birre! Haha! Sì, sono un amante delle birre! Oh mio Dio, è già finito il tempo! Ok, perfetto! Ok, guys! Termino qui questo video gameplay! Prima però, mi raccoglierebbe tutto! Ok, no, sta iniziando a laggare un po' troppo! Quindi, termino qui questo video gameplay! Spero che il gameplay vi sia piaciuto! Ci vedremo in un prossimo... Sì, Rage! In una prossima Rage avventura! Sempre come il vostro Rage non duro! Ciao a tutti, però! Oh, quella dovrebbe essere Lidia! Lidia! Vieni qui, ti devo dare un po' di roba! Sono il tuo train! Cribbio, vieni qui! Lidia, ti sto chiamando! Oh mio Dio! Lidia!